Il primo in classifica dopo due giornate, nessuno se ne sarebbe aspettato, ma soprattutto convincendo gli addetti ai lavori, quelli che guardano il calcio, c'è stata una squadra che può essere la rivelazione del campionato. Il risultato in questo momento ci dà grande gratificazione e grande soddisfazione, dopo un campionato che dura 42 giornate credo che sia giusto essere contenti in questo momento, ma allo stesso tempo essere consapevoli che il campionato di B ha vissuto con grande equilibrio, con grande capacità di vivere giornata per giornata, quindi adesso dobbiamo giocare con la Pro Vercelli e pensiamo a questa partita. No, è tutto vero, però a partire già la prima partita, magari si sapeva che la squadra era una squadra rodata perché hai cambiato pochi uomini, però a partire la prima fuori casa a Bari dove è data come una delle favorite, aveva molto pubblico, andare lì a imporsi, soprattutto come gioco, come filosofia, insomma è un bel segnale diciamo Roberto. Questo sicuramente è un lavoro che stiamo portando avanti, quella voglia di provarci sempre e di avere questo atteggiamento molto propositivo e molto aggressivo sotto anche l'aspetto mentale di provare anche in campi difficili come quello che può essere Bari, di cercare di giocarsi la partita alla pari senza avere il problema, di porsi il problema di avere una squadra molto forte e di grande qualità davanti. Sotto questo punto di vista è un atteggiamento che credo che fa parte un po' del mio modo di pensare, che comunque nel campionato scorso abbiamo portato avanti con grande determinazione e anche concretamente con dei risultati molto importanti e che cerchiamo di mantenere in questo campionato. Dopo sappiamo che quando si alza la sticella e la qualità e le squadre cominciano a diventare in forma sarà sempre più difficile questo tipo di situazione, ma noi vogliamo provarci e questo è il nostro modo di pensare e quello che voglio cercare di portare avanti insieme con la società e con il direttore col quale condividiamo pienamente questo modo di pensare e questa voglia di provare sempre di giocarci le partite alla pari con tutti.